Libertà, diritti e uguaglianza di genere. A Roma la partita della parità a fianco del popolo iraniano. A dirigere la partita l'arbitra persiana Sanam Shirvani. Il servizio è di Stefania Cappa. Un calcio al pallone per dire no alle ingiustizie. Libertà, diritti e uguaglianza di genere. Si torna in campo con la partita della parità e del rispetto al circolo sportivo della Rai a fianco del popolo iraniano. In questo momento che io le sto parlando, le sto spiegando, sono sicurissima che comunque ancora stanno continuando a ammazzare, a restare studenti, addirittura per gente normale. Quasi la situazione molto brutta, che non poi neanche è sicura. Con questa partita io veramente quasi siamo a fianco di loro, popolo iraniano. Due le squadre a sfidarsi sul rettangolo verde, composte da giornalisti, scrittori, personaggi del mondo dello sport. Libertà, parità, dignità, rispetto sono ingredienti fondamentali. Siamo al fianco del popolo iraniano, soprattutto delle donne iraniane, tra l'altro in un mese particolare come quello di novembre, l'avvicinamento alla data importante del 25 novembre, in cui alzeremo l'attenzione contro ogni forma di violenza contro le donne. Sul campo anche una giocatrice di una squadra iraniana in Italia. È molto importante per noi tenere alta l'attenzione sulla situazione nel nostro paese, un momento difficile per tutte noi, per le donne. Sono contenta che il mondo possa conoscerci e aiutarci con iniziative come questa. e workinga suono che si fosse inizia in uran. Grazie.